ed è tutto un punto interrogativo nel senso che sapremo dopo la prima partita se è stato un bene o un male di certo dall'aspetto recupero infortunati ne traiamo dei vantaggi no così come altre altre squadre il fatto che non giochiamo data da 20 giorni non giocheremo una partita ufficiale è capitato anche a volte quando durante il campionato insomma c'è c'è una sosta c'è c'è a volte che sospendono per qualche motivo insomma la partita che non si gioca a volte è scritta di giocare dopo 15 giorni insomma quindi non dobbiamo fissarci non deve essere un problema abbiamo comunque lavorato molto molto bene colgo l'occasione per farlo pubblicamente ringraziare veramente i medici fisioterapisti dottori perché da nessuna parte dove sono stato non sono allenatore ma anche da giocatore veramente dei seri professionisti perché dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 10 stanno lì a cercare di recuperare il e mettermi insomma in condizioni migliori possibili i giocatori che 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 non si stanno allenando con la squadra per diversi motivi insomma abbiamo 6 7 giocatori che purtroppo abbiamo dovuto gestire e da Posavec a Ingegneri Coronato Rolando Ciocev Raikovic Struna insomma abbiamo abbiamo gestito bene con gli altri abbiamo fatto dei lavori intensi con gli altri abbiamo dovuto fare dei lavori differenziati per portarli per portare più giocatori possibili alla settimana tipo quindi quando ricominceremo l'uno e non dico al cento per cento però che possano insomma allenarsi con con la squadra e allo stesso tempo ringrazio veramente i ragazzi perché ce la stanno mettendo tutta per quelli che non stanno benissimo per recuperare perché lavorano due tre volte al giorno veramente sia la mattina le terapie dopo pranzo rilavorano la sera insomma quindi ci stanno mettendo il massimo del dell'impegno e sia quelli che che hanno potuto lavorare totalmente insomma con 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 me in campo che vedo grande grande applicazione quindi tutti siamo concentrati tutti siamo consapevoli dell'importanza di di queste partite che andremo ad affrontare pensando una logicamente alla volta ma abbiamo ancora un paio di giorni per mettere dentro benzina e staccheremo poi con il 31 una giornata di riposo e l'uno ricominceremo con la settimana tipo insomma quindi sono sono soddisfatto di come di come stiamo lavorando dobbiamo valutarlo tra oggi domani e dopodomani insieme ai dottori insieme ai preparatori insieme ai fisici insomma più siamo e meglio è sono di qualcuno sono ottimista di qualcuno bisogna non correre insomma non non rischiare poi di perdere per le per le eventuali partite non scordiamoci che giocheremo da dal 6 in poi giocheremo ogni ogni tre giorni quindi io più giocatori avrò a disposizione più sarà difficile per me fare la formazione dall'inizio no perché quando hai hai una rossa così ampia e tutti stanno bene sicuramente e ci saranno delle difficoltà nelle scelte perché come fai e qualche cosa la fai bene qualcosa la fai male ma perché veramente abbiamo una una rossa ampia e forte e però è il mio compito il mio lavoro cercare di mettere in campo quelli che stanno meglio in base alle condizioni fisiche mentali atletiche in base all'avversario in base all'arco dei dei 90 minuti senza fare calcoli per la partita dopo perché dopo quella partita dovremo dal giorno dopo dalla sera stessa cominciare a preparare quella che si giocherà tre giorni dopo quindi più siamo e meglio è perché c'è anche il discorso doppia munizioni da valutare perché nel senso che se un giocatore prende una munizione a partita la prende quella dopo la terza l'eventuale finale la salterà insomma quindi dobbiamo avere più giocatori siamo e meglio è farti una percentuale oggi non non posso insomma dobbiamo valutare questi altri due giorni però conto di recuperare insomma non dico tutti ma quasi gli infortunati abbiamo gestiti come 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 giusto giusto fare e non c'è una regola purtroppo a saperla tutti tutti la farebbero no nel senso se fai questi tipi di lavori arriverai al al 6 o al 10 o al 13 o al 16 in queste condizioni purtroppo non c'è non c'è una regola non si sa e dovevo andare molto a sensazione molto osservare e non è un serbatoio che noi più benzina mettiamo e più chilometri facciamo quello è un discorso che puoi fare all'inizio del ritiro oggi con con partite così ravvicinate dopo dieci mesi molto intensi dove ci sono state 42 partite dove ci sono stati molti molti infortuni oggi nessuno sa non solo noi nel falermo ma nessuno sa qual è la ricetta migliore quali sono gli allenamenti migliori per arrivare a una condizione ottimale e tranne che quella del lavoro giusto dell'osservare del parlare con i ragazzi e del capire se 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 stiamo se sono molto stanchi una mezza giornata di riposo vale tanto quanto una giornata di lavoro insomma in questo momento e si giocherà la sera quindi non ci sarà il caldo che magari abbiamo vissuto nelle nelle partite finali del del campionato quindi quello un vantaggio non solo per noi ma per tutte le squadre e c'è il pizzico fortuna perché ti cambia ti cambia tutto e abbiamo abbiamo cercato di fare di lavorare molto sull'aspetto tattico molto sull'aspetto mentale e anche sull'aspetto sull'aspetto fisico poi ci sarà la partita logicamente da lì si vedrà se avremo lavorato bene o meno no no ma noi quando lavoriamo comunque in generale al di là del momento e ci andiamo a mettere tutto quello che che serve dal primo giorno della settimana vai a fare un lavoro più organico a livello di di corsa sia con la palla con possessi che che fisico con i preparatori atletici il giorno dopo vai a fare un lavoro più più a mettere dentro un po di forza che non è quella in palestra magari un po la forza un po più reale quella che fai in campo no quindi con delle partitine degli uno contro uno e due contro due abbiamo cercato di mantenere e questa settimana di fare una settimana tipo infatti poi domani faremo una sorta di amichevole diciamo con la primavera per mettere dentro altri 40 50 minuti di partita insomma nelle gambe per poi rilavorare il giorno dopo e poi da staccare con un giorno di riposo questa settimana è stata abbiamo lavorato intensamente non ho lavorato molto sull'aspetto tattico perché mi interessa cominciare a preparare la partita da dall'uno sennò dopo diventa che che si preparasse e si parla troppo di quella partita non sai neanche contro di dovrei giocare e e sono molto soddisfatto di come di come hanno lavorato tutti quanti come ho detto prima insomma quindi noi dall'uno cominceremo a pensare alla preparazione alla gara che sia il Venezia che sia il Perugia poco poco ci deve cambiare a livello mentale insomma a livello mentale io ricordo sempre che da da giocatore ne ho fatte un po' di partite e c'erano quelle 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 settimane dove non non ti sentivi bene per diversi motivi sia fisici che mentali e magari la domenica andavi a 200 all'ora e viceversa perché purtroppo siamo esseri umani e quindi non c'è una regola ben scritta se no la farebbero tutti e tutte le squadre andrebbero a a 200 all'ora ogni ogni partita non è così partite che al sessantesimo volevo chiedere il cambio e che avevo i crampi e magari sono stato fortunato a trovare un gol su un calcio d'angolo e potevo giocare altre tre partite di fila improvvisamente erano passati i dolori e i crampi quindi e quindi torniamo su quel discorso che facevo prima sulla componente fortuna e è normale che che dobbiamo essere organizzati lavorare come stiamo facendo ma nei playoff serve anche un pizzichetto di di fortuna oltre a tutte le altre componenti che sappiamo quelli quelli noi ci lavoriamo sempre perché non si può correre il rischio di preparare una partita tutta la settimana contro solo un modulo e poi magari la squadra avversaria cambia il modulo 10 minuti prima della partita e essere impreparati insomma quindi si lavora su dei concetti di base poi è normale che l'interpretazione all'interno del della partita un po noi dalla panchina diamo una mano un po il giocatore stesso un po di esperienza ce l'ha e riusciamo riusciamo a farlo con la selenità noi abbiamo preparato la partita pensando di giocare contro un 3 4 1 2 e perché avevano giocato così le ultime due partite poi dalla formazione che ci hanno dato abbiamo visto che giocavano un po a specchio come contro di noi con il 4 3 1 2 e ci siamo mossi benissimo la differenza poi la fanno come dico spesso i duelli individuali in queste quattro partite ho avuto anche risposte importanti perché abbiamo cambiato spesso modulo nel senso siamo partiti con un 4 4 2 po atipico contro il Bari dove c'era Inaore che faceva una mezzala che tendeva ad aprire sulla fascia per poi cambiarci all'inizio del suo tempo con 3 4 1 2 e poi per ripassare a un 4 4 2 un po più più vero con con la ternana abbiamo giocato tutta la partita 4 4 2 abbiamo finito gli ultimi dieci minuti con un centrocamp a tre con un 4 2 3 e cesena abbiamo mantenuto il 4 4 4 4 3 1 poi dopo ci siamo messi a 4 4 2 perché entrava tra i koschi con coronato largo quindi era più che altro un 4 2 4 e nella partita con la selenità abbiamo adottato sia il 4 3 1 2 all'inizio e poi ci siamo messi a 5 3 2 nei minuti finali quindi questo è ci mi fa capire anche che una squadra duttile che può in qualsiasi momento cambiare cambiare pelle senza magari anche fare cambi cambi di elementi insomma quindi sotto quell'aspetto sono ripeto sono sono contento sono soddisfatto l'idea mia è che i moduli contano contano poco nel senso poi dipende dall'interprete in campo e come si muovono e dipende anche dall'avversario sempre per cercare di di vincere la partita mai di di non prenderle quello può essere fatto se stai vincendo 2 a 0 e mancano due minuti il non prendere ma a volte non vale neanche tanto la pena farlo e per necessità nella partita con la selenità per via delle assenze di di coronato dell'assenza di di rolando ci siamo messi con il 4 3 1 2 ho scoperto che che tra i koschi è un giocatore che che ha qualità e si sacrifica che moreo lagumina stanno stanno facendo molto bene in in coppia che un centrocampo con ciocev iaialo muraschi e sia un centrocampo di qualità che di che di sostanza quindi in quella partita siamo partiti così ma avevamo preparato che se non poteva se vediamo che troviamo delle difficoltà potevamo cambiarci e metterci con un altro con un altro modo insomma quindi questo è perché io sono subentrato e perché devo vedere tutto perché un conto è vedere allenamento un conto è vedere le partite e perché ho la fortuna di avere giocatori che è una squadra che può adottare penso tutti tutti i modi perché questa squadra può fare bene il 3 4 1 2 può fare 4 3 1 2 può fare 4 4 dipende dipende poi dalle circostanze ma soprattutto dipende da quello che osservo e vedo durante la settimana se io vedo che che quattro attaccanti stanno benissimo in maniera incredibile e magari uno dei due del centrocampisti non stanno molto bene molto probabile che giocherà quella partita con un 4 2 4 ma poi dipende sempre dagli interpreti dipende sempre da come ci muoviamo in campo e dall'intelligenza che hanno i ragazzi insomma quindi non ci sarà un palermo dalla prima partita fino alla fine che giocherà secondo me con con un modulo e sarà solo quello ma questo questo è perché dobbiamo essere pronti sia per vince sia per preparare le partite per per non subire dobbiamo essere pronti e svegli a cambiare pelle in qualsiasi momento e nesso si sta allenando molto bene cioè ci aveva avuto sette giorni fa otto giorni fa insomma prima della partita con la salernandana quel riacutizzarsi un po del problema che aveva avuto ma ha recuperato bene si è allenato a pieni regime con la squadra è normale che non avrà per via insomma dell'infortunio prolungato e dall'assenza di 35 giorni 40 giorni quello che è non avrà il ritmo partita ma io ho bisogno di tutti perché ripeto quattro partite ogni tre giorni è molto probabile che noi cambieremo anche 3 4 5 elementi da una partita all'altra perché dobbiamo valutare insomma le condizioni fisiche e dei giocatori che che spenderanno e daranno tutto nei primi 90 minuti noi possiamo giocare tutti l'importante che ci sia e all'interno degli 11 giocatori e i 12 della panchina e il bene il bene comune pensare a a ottenere il massimo per il bene nostro e che di conseguenza diventa del della società del palermo dei tifosi